Ieri, ripeto, c'è stata veramente un'ondata di affetto che abbiamo ricevuto e c'è stata veramente tanta gente che ha donato con il cuore, non solo con il portafoglio ma con il cuore. Purtroppo poi si è conclusa con la mare in bocca, a fine serata il tempo di caricare la casa in macchina, salutare due persone, mi sono distratta e purtroppo l'incasso è sparito. Pochi attimi e i risultati di una giornata di solidarietà si sono volatilizzati e amareggiata Laura Coletto, titolare dell'azienda agricola Villa Rosa Sant'Andrea di Barbarana e sorella di Michela, morta tre anni fa per una leucemia. Quel Flower Festival in un trionfo di tulipani era dedicato a lei e alla raccolta fondi per l'AIL. Una donna meravigliosa che ha trasmesso a tutti il senso vero del volontariato e una delle sue particolarità era il sorriso che a noi ogni tanto manca ma quando pensiamo a lei poi ci facciamo forza e ritorna. Un atto deprecabile lo ha definito lo stesso presidente della regione del Veneto Luca Zaia sui social mentre Laura fa appello alle coscienze di chi una coscienza forse non ce l'ha. Chi ha visto, chi ha partecipato al fatto, chi l'ha compiuto? Provate a pensare che i soldi raccolti non servono a curare e non ad arricchire le tasche di qualcuno. Pensate al gesto che avete fatto e se avete un po' di cuore restituite. L'iniziativa di solidarietà torna anche domenica prossima, protagonista un fiore che più di tutti rappresenta un legame senza fine. Il tulipano sboccia, sfiorisce ma se poi è curato i suoi bulbi rifioriscono l'anno successivo e quindi è una vita che continua e quindi è un po' anche forse la vita di Michela che continua e dall'alto ci guarda.